Dopo un weekend d'estate, tra aria aperta e prima tintarella, un fronte freddo sta per farci precipitare nuovamente nell'inverno. Nell'inverno vero, con tanto di neve in montagna, temperature minime in pianura tra i 3 e i 7 gradi e vento sulla costa. Ed è proprio l'entità delle raffiche previste da nord o nord ovest, con bora anche forte a Trieste, ad aver fatto scattare l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile regionale dalle 12 alle 20 del 16 aprile, per tutte le problematiche che possono essere causate dal vento, tra cui locali interruzioni della viabilità. Le zone allertate sono proprio quelle della pianura e della costa. Per il resto, le piogge saranno abbondanti sui monti, in particolare sulle Alpi Giulie, dal pomeriggio, da moderate ad abbondanti nel resto della regione con possibili temporali. Quota neve al mattino oltre i 2000 metri, dal pomeriggio fino ai 1000 nel Tarvisiano a circa 600 metri. Il miglioramento arriverà in serata, quando le temperature scenderanno a picco e sarà il momento di riprendere i cappotti, almeno per qualche giorno.